Salve a tutti, sono Elisa Checchi, dal liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio e per il premio Asimov ho deciso di leggere il libro Matematica di evasione di Claudio Marini. Sono rimasta profondamente colpita dalle trame di collegamento che Marini evidenzia tra la matematica e la vita quotidiana, la vita di tutti noi. Spesso ci figuriamo la matematica, mi sento di dire erroneamente, come una materia fredda, rigorosa, basata esclusivamente sul calcolo e ci dimentichiamo che invece è impiegata in modo sostanziale all'interno della vita che viviamo tutti i giorni. Senza rendercene conto, la matematica è infatti parte di noi e di tutto ciò che ci sta intorno. In questi giorni comunque così difficili ci rendiamo conto che la curva dell'epidemia può essere benissimo approssimata da leggi matematiche e anche se diciamo sicuramente non è un'applicazione felice della matematica ci possiamo effettivamente rendere conto di quanto questa sia la base di tutta la nostra vita. Ciò che mi ha fatto piacere leggere nel libro di Marini è sicuramente il fatto che lui si proponga di scrivere di una matematica forse mi sento di dire inedita ma accessibile a tutti, accessibile ai carcerati che sicuramente non erano esperti del settore matematico ma accessibile anche a tutti coloro che per piacere decidono di leggere un libro relativo alla matematica che non deve essere una materia esclusiva, non deve essere una materia che si riferisce solo ad un determinato range di persone ma deve essere una materia che interessa l'intera collettività.